E sei una persona anche molto sensibile, che ha soprattutto a cuore l'uguaglianza di genere, il gender equality. Perché questo tema ti sta così tanto a cuore? Hai visto il mondo? Non è giusto. Sfortunatamente il mondo in cui viviamo non è giusto e lo si vede tutti i giorni. Non saprò mai, e chiaramente nessun uomo saprà mai come ci si sente essere donna in vari paesi del mondo dove le donne devono pensare a cosa è indossare quando escono di casa, a come devono camminare. Perché magari non possono andare lungo una certa strada o perché ad esempio è tardi e non possono attraversare il parco. Queste non sono cose di cui gli uomini si devono preoccupare, ma le donne sì. E questo non è giusto perché condividiamo questo mondo insieme. Capisci? Non è che le donne siano venute dallo spazio, gli uomini le abbiano accolte dicendo benvenute sulla terra. Questo è il nostro mondo. Quindi penso che come attore e come qualcuno che può esercitare una forma di influenza è importante soprattutto per le generazioni più giovani e per la gente in generale poterne parlare. E' importante che gli uomini, che proprio gli uomini, parlino con altri uomini di questo, non con le donne, perché le donne sanno qual è il problema, ma la gran parte degli uomini no. E la maggior parte degli uomini non ne parla perché, perché forse è quello che possono pensare gli altri, ma non importa. E' importante che gli uomini, che proprio gli uomini parlino con altri uomini di questo. Grazie.